www.mesmerism.info Io ho capito solo a mignotta. Ecco qua. Grazie, bellissimo. Ciao, ciao. No, senti, quando ti raccomando ti metti che la porta ci sei n'asta. Ecco. Ci proviamo, provo, vediamo. Ok, ti faccio sapere. Ciao, eh. Grazie di tutto, bellissimo. Non mi metti che la porta ci sei n'asta. Io ho capito ci sei nasta. Che è ci sei nasta? Comunque grazie anche per me è bellissimo tutto, eh. Ci sei nasta anche a te. Ciao, ciao, ciao. Scusa. Ci sei nasta, un grandissimo ci sei nasta.